Vai quando vuoi. Ingegnere, dunque, dopo partita abbastanza concitato, dichiarazioni del caso quali sono? Io sono fortemente amareggiato del comportamento in campo di un arbitro che francamente non è degno di calcare questi campi. Io sto vedendo in questi ultimi tempi una serie di atteggiamenti da parte della Lega, che non voglio dire che siano contrari al Gavorrano, ma che sono fortemente lesivi della nostra squadra e della nostra società. Il comportamento dell'arbitro è stato inqualificabile. Quindi io spero che la giustizia sportiva e chi ha i compiti di sorveglianza lo mandi a casa, perché questa persona non è degno di stare su un campo di calcio. Numero uno. Per quanto riguarda poi le vicende che stanno portando altre squadre, che francamente potrebbero essere al di sotto di noi e con comportamenti societari fortemente censurabili, io devo dire che questo campionato è completamente falsato e che se noi avremo danni ulteriori da quelli che abbiamo avuto, perché è stato chiarissimo che la terna arbitrale mandata a Grosseto aveva il compito di farci fuori. Bene, io vi dico che se continua così non solo noi ritireremo la squadra, ma andremo in tutte le sedi per poter smascherare questi ladroni del calcio che ci mettono nella condizione di falsare completamente qualsiasi atteggiamento di tipo sportivo. Questo non è più calcio e del resto si vede come il calcio si è impoverito in Italia. Queste persone mestieranti che sono soltanto nel calcio per poter mettersi in tasca qualche soldo stanno rovinando tutto completamente il calcio e francamente vi devo dire mi fa schifo stare in questo campionato con un presidente che non ha preso provvedimenti seri per poter mettere in campo la giustizia sportiva. Ovviamente il riferimento per quanto riguarda le altre squadre che meriterebbero di stare forse addirittura fuori dal campionato riguardo all'Arezzo, legato all'Arezzo. Io non ho niente né con l'Arezzo né contro l'Arezzo né contro gli aretini. Ho semplicemente un bilancio che è specchiato, che ha tenuto conto del fair play e che quindi risente sotto il profilo tecnico del fatto che noi abbiamo risorse limitate. Ma non posso vedere che una finanza allegra metta nelle condizioni chiunque di poter schierare in campo forze che non possano essere permessi dai loro bilanci. E quindi questo non è più calcio. Non è sport chiaramente questo. Questo non è sport, non è calcio, è semplicemente mafia. Punto e basta. Grazie mille.